Sì, non è vero, non è vero. E' un'altra cosa, non è vero. Non è vero. Non è vero. E' vero. Avete un milione di euro? Puntatelo su sto cazzo! In questa troia cerca il grano senza grano e farei soldi col mio cazzo perchè in mano ha un grosso affianco. Ma ti sentire, Mikey? Eh... Ma ti sentire una ottava più alta? Eh... Oggi abbiamo uno che è noto per piaccarla piano e io non so ancora nulla ma si anticipando che anche oggi... No. Real Talk, nuovo episodio, ci siamo fatti attendere un po' ma ne va... Real Talk, scusa. Ma mi hanno detto allora la regia che... Te mandi a dire? Dai che mi rupi, dai che mi rupi! Sì, tanto con questa ti prendo abbastanza largo. No perchè la gente deve sapere che porca troia, andategli a beccare la fottuta! E' perchè loro non guardano tutte le puntate! Pia di coglioni! Se ne guardi una di Real Talk, vecchio è come l'epatite, la pacca tutti! Sì, figlio, di guardarle più bene! Sì, ma ne voglio ancora di più, eh! Più vai bene, più ho fame! Sei come il cazzo di Burger King per me, papà, eh! Ti spremiamo come un man d'arancio noi oggi poveri! Cazzo! E ti apri un altro buco qua, tipo Calibi! Scusa ma tu sei Giang? Mister Brillante mi chiamano nel Rang! PENZO DI FANGOOOOO! Dici che è MASSENZO? Sì! Corri un bombo! No, secondo me fa finita la merda! No, adesso è di Arbide! Busca Calcuba! Busca Calcuba! Busca Calcuba! Busca Calcuba! Busca Calcuba! Non mi fotti più! Non mi fotti più! Non mi fotti più! Sì, sì! Sì, sì! Quando arrivo devi fammi passare! Ci siamo? Ci sbarco tutto? Si allaga l'altra! Si allaga l'altra! Si allaga l'altra! Eh, la puntata di Ice Love Parental Advisor! Dai, è l'obbligo! Questa potrebbe diventare un minima! Oh! Oh! Mi amare figa! Oh! 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 Grazie.